ok pronti ragazzi video serio beh sì allora vediamo questo invece di dirlo senza piangere che l'abbiamo visto già in un video di cos'era sbortus se non sbaglio a quanto pare ha ripreso ha iniziato a postare e già il titolo dice tanto quindi si parla di threads penso che lui insulterà pesantemente tutte le persone tutti quanti senza filtri quindi vediamo cosa abbiamo appena visto ragazzi non fatevi domande è unisciti leo comunque io ora lo denuncio per maltrattamento verso macbook non si chiudono così mac buonasera fennis buonasera guardiamo si fa scopare su threads per fama e senza dignità non so di chi stia parlando ma let's go e spero anche che non ci siano cose che non ah sì ok è tutto censurato perfetto bravissima porca di quella puttana queste ragazze dovrebbero sparire dalla faccia della terra l'ho detto perché mi fanno incazzare perché sono sono la rovina di della parola donna sono la rovina per le altre ragazze che si impegnano a fare le cose come così come si deve e queste qui invece fanno questo e rovinano tutto mi fanno venire un nervoso incredibile ma andiamo avanti pessima scelta di parole cosa mi faresti se sarei lì con te cioè la prima dici non lo so l'ha scritto apposta così o è veramente stupida non lo so quale dei due ragazzi quale dei due non lo so non so più a che cosa credere no lo fanno apposta lo fanno apposta dai le ragazze mica sono stupide di solito non sono intelligenti normalmente non lo so vai andiamo avanti algoritmo ti prego portami queste persone sinistra comunista socialista anarchico anticapitalista antifascista antisionista antisionista eh si ma dillo senza piangere ciao sono dillo senza piangere e oggi voglio parlarvi di questa nuova app che per me negli ultimi giorni è stata fonte di divertimento per via dei post molto discutibili che mi sono finito mi piace il cazzo immagino che problema c'è troppe donne vittime del patriarcato bigotto porca di quella troia che nervi già questo video non ce la faccio a vederlo mamma mia le prenderei a schiaffi tutte quante ve lo giuro mi devo calmare mio dio i tinum proposti dall'algoritmo essenzialmente abbiamo post di comunisti e ovviamente post di puttunane dovrebbero rinominare il social only threads perché è veramente imbarazzante una fusione tra però non farmi vedere solo le ragazze perché anche i ragazzi lo fanno mi farà vedere solo le ragazze però giustamente ovvio i fans e instagram e la quantità di puttunane che ho visto è inimmaginabile threads il nuovo social perché di ragazzi che fanno così ce ne sono tanti anche e li ho visti che sono quasi peggio delle ragazze vi dico però di ragazze che fanno questo sono tante e se vedono di più uscivano anche a me addirittura come fanno a incazzarti ma sapete qual è il problema di ste ragazze il problema è che sono ovunque è ok che puoi fare quello che vuoi ok ma il problema è più grande di quello che sembra il problema è che in generale adesso tutte le ragazze sono viste così sei una ragazza su internet sei come queste qua che appaiono qui anche se non lo sei minimamente aspetta non devo saltare così tanto cioè è un problema grosso anche se non sembra però in generale si crea questo discorso ragazza uguale a questo e mi dà fastidio perché io sono una cazzo di ragazza e quindi mi dà fastidio perché rientro in questo in questo coso di merda pieno di gente ring incoglionita social una beta il nuovo social una beta di instagram praticamente un twitter per instagram e manco avuto il tempo di nascere che già fa parlare di sé in maniera negativa credetemi sulla parola quando vi dico che questo social permette qualsiasi cosa mi sono capitati nella home video come questo vabbè ma non sta facendo niente si sta semplicemente muovendo io non so cosa pensino i moderatori di questa app quando vedono questi post probabilmente ci si fa perché ci sono dei moderatori su quell'app no perché da quello che ho visto io mi sembra come se non esistesse nessun tipo di moderatore vi giuro fanno le serie ma il punto è che questi post dovrebbero essere bannati almeno su un social normale adesso vi faccio vedere tanti di quei post che mi sono usciti nella home perché l'algoritmo ti propone queste cose non è che tu te le vai a cercare vi avverto potrebbe venirvi un esaurimento vero vero su tutto quello che dice perché ti propone l'algoritmo tutta sta roba e seconda cosa si anch'io e seconda cosa preparatevi anche voi perché vi potrebbe venire l'esaurimento nervoso o meglio verrà a me l'esaurimento nervoso esattamente come è venuto a me montando questo video ma buona visione ma a me fa pasto bene ormai qui non mi annoio mai cioè tu dimmi a voi ragazzi sta roba piace domanda cioè se vi capita di vedere una cosa del genere così a caso su un'app come ve lo devo chiedere cioè magari ve lo potete cercare per i cazzi vostri perché è una cosa che vi potrebbe interessare ok però normalmente se vedete una cosa del genere cosa cazzo pensate chiudo gli occhi skip ok andiamo avanti meno male che tutto è censurato faccio la escort penso da otto anni cosa volete sapere? se solo potessi picchiarle una per una lo farei però posso dire allo stesso tempo se hanno se lavorano sui social probabilmente questo è un modo super intelligente di promuovere i propri social di promuovere l'only fan su quello che fanno perché di pubblicità se ne fanno veramente tanta però come ripeto è un problema grave è un problema grave per le altre ragazze secondo me ed è questo il motivo per cui ormai mi siego sulle auto e non sulle donne onesto non capisco il sistema di moderazione dell'app preferisco almeno quello di reddit che riconosce i post di tag 18 più per non mostrarli ma secondo me quelli di freddit non si immaginavano nemmeno potesse succedere una cosa del genere ciao danni come stai? secondo me loro non pensavano sarebbe successo sto casino però come fai a non pensarci anzi ma stanno tenendo sta roba ogni giorno cioè io ogni giorno entro per tipo un minuto a vedere veloce cosa c'è in home per vedere se sta cambiando in qualche modo il red giorno dopo giorno o no e comunque mi escono robe così sì lea dopo è lea alem la dignità e i soldi sono due cose inversamente proporzionali però allora mi spiegate perché i ragazzi devono rompere il cazzo a ragazze che stanno semplicemente divertendosi normalmente tipo io che gioco ai videogiochi in cui guido o altre ragazze che giocano agli fps e ci sono gli altri pezzi di merda che devono dire boh vai in cucina vai a farmi un panino fare quella roba lì che sono completamente due tipi di ragazze diverse soprattutto come si pongono e come si qual è la loro immagine come si fanno a vedere online ma comunque ci devono essere questi pezzi di merda perché secondo me secondo me per colpa di queste ragazze si crea questa immagine che tutte siano così perché ovviamente magari l'uomo in generale soprattutto l'uomo che magari non si è voluto che segue queste cose e commenta con la bava alla bocca va a pensare che in generale tutte le ragazze siano così non lo so boh queste cose mi fanno innervosire magari non riescono a distinguere boh io picchierei tutti quanti sia loro che sia le ragazze che i ragazzi tutti la stupidità è mica un genere non lo so però come ripeto io c'è sta cosa della donna online mamma mia è una cosa grave cioè io vi giuro a volte io vorrei essere un maschio proprio per questo motivo per non ricevermi commenti di questo tipo e non faccio niente uno più uno avrei proprio bisogno qua non bisogna rompere le creator perché loro stanno facendo bene ovvero sfruttando possibilità bisogna rompere la piattaforma che si fanno le pippe su sto post e non fanno nulla sì anche però in genere sì ok in questo caso si dovrebbe dare sì sono le piattaforme però dai è sempre anche la storia delle piattaforme che coglioni guarda twitch guarda cosa succede su twitch eh no non funziona non è la scusa delle piattaforme non c'entra proprio niente secondo me al giorno d'oggi le donne non vanno gettificate ma io ti picchio anche te dio mio questo discorso mi fa incazzare un botto sì ho visto non so voi ma io direi che con questa app il mondo dei social ha effettivamente toccato il fondo però in realtà io sono molto contento di questa cosa perché quest'app più delle altre sta evidenziando una cosa che a me fa molto piacere che venga notata da tutti ovvero che le ragazze sui social possono emergere solamente se si mettono in ridicolo se si umiliano quindi io voglio fare un applauso a trezza anzi only trezza perché è più giusto così ovviamente io ho interagito con questa app sia sotto post di altri sia con il mio stesso account se volete seguirmi mi chiamo Dillo senza piangere vi lascio il link in descrizione ho fatto tanti like prendendo per i fondelli quella cocaina con gli occhi scavati di chi io questo video non lo sapevo mi avrebbe fatto incazzare così tanto Dio santo il valore dei like dei numeri ficcatevi nel culo sti cazzo di numeri se solo si potesse milleotto dritti nel culo tutti qua madonna silenzio voglio finire di guardarlo chiara ferraglia sotto il post di una ragazza che io io reputo veramente insopportabile viene da tiktok si chiama jenny serpi e ha problemi poverina su questo non ci possiamo fare niente anyways io mi sono divertito sotto la sua sezione commenti ho semplicemente mandato l'immagine dello scar silenziato ma poi ragazzi mi è uscito nella home questo video di chiara ferranni un video sfogo barra video scuse per quello che lei ha combinato con la storia del pandoro del panettone ma non mi ricordo che cazzo era comunque per quella roba là e piange madonna se piange ha anche detto io voglio fare questa donazione adesso pubblicamente la vuoi fare per salvarti la faccia e per pararti il culo perché ormai la figura di me da livello nazionale l'hai fatta avrei tanto voluto fare un video sulla storia di chiara ferraglia e del pandoro per prenderla per il culo per tutte le cose che dice e poi quelle quindi al giorno d'oggi va di moda letteralmente prendere per il culo le persone qualsiasi tipo di persona questo che funziona a quanto pare sì anzi più che altro lo si fa così e basta senza neanche pensare a quello che dici lo potete vedere ovunque nei commenti le persone che fanno video gente che dice la propria opinione ovunque no cazzo però sapete cosa cosa mi fa pensare questo mi fa pensare che tipo no non è che è così tutti hanno la possibilità di esprimere la propria opinione e va benissimo ma l'opinione di moltissime persone non ha alcun senso non dovrebbero esprimerla sì poi sta cosa di tutti che si concentrano su Chiara Ferragni ma non sui politici ma solo perché fa numeri parlare di Chiara Ferragni a nessuno frega un cazzo di Chiara Ferragni se ci pensate normalmente tutti a fare bla 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 qua 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 solo perché è lei e tutti sanno chi è chi è e quindi di conseguenza vanno a guadagnare in qualche modo che cazzo serve a parlare dei politici secondo te ma sì ma figurati parlare di politica la gente non capisce un cazzo e per parlare di politica ti devi informare ti devi stargli un attimo a studiarti le cose e a capirle quelle che dimostrano i fatti ma sono stato bannato per una settimana e non ho voluto registrare un video perché pensavo sarebbe passato di trend ma dato che se ne parla ancora io ho deciso di dire la mia visto che questo video mi è uscito su Trez questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia e questo è quello che insegniamo ai nostri figli gli insegniamo anche che si può sbagliare e che quando capita bisogna ammettere e se possibile rimediare l'errore fatto e farne tesoro e questo comunque veramente vorrei dire che lei secondo me io non la seguo però secondo me lei in generale è veramente forte per rimanere sui social e fare quello che sta facendo poi vabbè congnuno sballe avrà fatto una cazzata sì non lo so non mi interessa sinceramente non me ne frega proprio un cazzo di se ha fatto veramente una cazzata o se è stato un errore voluto non mi cambia la vita però veramente è bravissima veramente brava che rimane sui social nonostante tutta la merda che le gettano addosso una persona più finta di lei non l'ho mai vista ma come fai a dire una cosa del genere però come fai a dirlo se davvero non l'hai vista cioè vedete una cosa sui social pensate che le persone sui social siano tutte vere non lo so mi sembra come se le persone non ragionassero con la propria testa molto spesso ma piuttosto ascoltano quello che dicono gli altri però non lo so rimane sui social perché è il suo lavoro come la maggior parte di persone che ha seguito online vabbè comunque io non conosco lei quindi non so questo è quello che voglio fare ora chiedere scusa e dare concretezza a questo mio gesto devolverò un milione di euro a regina Margherita per sostenere le cuore dei bambini allora cara Chiara Ferragni in primo luogo i video sfogo falli ma senza piangere perché sei molto fastidiosa e mi ricordi Amberhead molto francamente penso che tu ti debba prendere la merda di questo mondo intera sulla testa perché sei la prima dai però mi sembra esagerato raga mi sembra veramente esagerato quello che dice ok ripare tornando indietro può aver fatto una grande cazzata ok ma porca di quella troia tutte le altre persone come dite voi politici o quegli altri tutte le persone persone in generale che governano e no lì però tranquilli ce ne sbattiamo le palle boh raga non lo so non lo so mi sembra un po' che la gente che pensa così sia molto incoerente ciao Fabio rimane perché tanto porta lo stipendio e mi sembra giusto avrebbe però la possibilità anche di con tutti i soldi che fa a fare anche tante altre cose che le potrebbero portare altri guadagni invece al possibile di rimanere sui social no? però rimane lo stesso ma chiunque è incoerente ma no sembra una scusa troppo facile a chiunque è incoerente non è vero che ha un cervello ragiona non è incoerente se dici che quello che ha detto è esagerato non hai sentito c'è anche ha detto Cruciani? no video? ma tu persona normale non puoi intaccare un politico? però prendere per il culo e figa trattare male una persona così si boh raga questo veramente è ingiusto è anche un po' stupido da dire secondo me eh allora ce la prendiamo con chi possiamo insomma colpire in qualche modo giusto? va vabbè andiamo avanti prima che rinfaccia ogni tipo di errore ai politici di destra sei la prima a fare discorsi morali e rompendo le palle alla gente quindi se fai una cosa immorale tu ti meriti tutta la m***a di questo mondo non dovresti io lo trovo ingiusto rimiti la m***a e basta quello che banalmente Chiara Ferragni fa con questo video di Trez è chiedere scusa cercando di salvarsi la faccia dicendo eh io adesso farò un'altra donazione ho capito che sto parlando di una persona che vendeva la propria acqua e allora ci sono persone che vendono i barattoli di scoregge o persone però che no vabbè raga io però se vado avanti su questo discorso c'è il rischio che veramente mi incazzo è come se stesse cercando di trovare scuse per prendervela con una persona online a calzo cioè che cazzo vuol dire è troppo una scusa è troppo difficile prendersela come non lo so qualcuno che ci governa con i politici non è che sto dicendo che adesso vi sto invogliando a fare una rivolta assolutamente no però è per dire che le persone fanno ciò che gli è un po' comodo quello che gli viene più facile al posto di non lo so se piuttosto che non so andare a commentare non dire un cazzo stai zitto non lo so troppo facile così non lo so guarda dovevi pensarci prima non puoi pensare che la gente dimentichi tutto la gente deve ricordare perché poi la prossima volta che tu farei un discorso di merda sanremo o direi un'altra strontata nessuno ti crederà più e nessuno ti prenderà sul serio ed è giusto così sono anni che lo dico un aspetto positivo in questo social c'è ed è quello che io volevo da tanto in un social ovvero la schiettezza da parte del pubblico nei confronti dei tiktoker e degli influencer in generale sto parlando delle sezioni commenti di questi influencer la gente è proprio incazzata nera li prende solo per il culo e di certo si vede che non li seguono perché li stimano o altro ma solamente perché hanno la conferma che ci sta gente che è messa peggio di loro questa è una cosa positiva secondo me perché mina l'intoccabilità di questi tiktoker che magari su tiktok avendo una fanbase di idioti pensano di essere idolatrati dalla loro community e qui invece sono presi a sberle in faccia proprio apertamente veramente basta aprire un paio di sedi in che senso nobody sta parlando di me non lo so per in generale non molti avevo visto tantissimi commenti semplicemente di persone invidiose perché magari lei vive la vita che gli altri non si potranno mai permettere neanche fra cent'anni a me a me sembra che ci sia tantissima invidia a me sembra che la stragrande maggioranza delle persone non usi un minimo di cervello puoi dirlo forte veramente sezioni commenti per esempio di questa tipa qua che è veramente fastidiosa e non c'è un commento positivo sto evidenziando la realtà la gente non vi segue perché vi stima vi segue solo per prendervi per il culo e se ride ai vostri contenuti è solamente perché ridono di voi non ridono di certo con voi e niente quindi questo social un aspetto positivo sicuramente ce l'ha e sono fiero che sia proprio questo perché è quello che proprio caratterizza il mio canale ovvero la schiettezza e il dire cosa si pensa questa app si sta prospettando quello che fanno un po' tutti però secondo me la differenza la vedi tra persone che dicono quello che pensano ragionando un po' sulle cose e chi non ci ragiona proprio ha fatto un video finto con parametri di immagine e vestiario per fare empatia a dici chiara ha copiato un video di una giornalista palestinese come modus operandi dove diceva cose sui bambini di gaza è finta anche a chiedere scuse lo hanno studiato visto gente che di psicologia immagini se ne intende caster io qualche giorno fa ho visto il suo video in cui lei chiede scuse ed è stata la prima cosa che ho detto che lei ha studiato andate a rivedervi sul mio secondo canale sul mio canale youtube in cui guardo i video faccio reaction ai video e dico quello che penso in live lì ho detto che sembra veramente finto è fatto apposta ma perché lei se lo può permettere perché ovviamente c'è tutto il discorso dietro della la sua immagine online ci sono persone che la preparano ci saranno sicuramente persone che le insegnano anche come parlare cosa dire come muoversi c'è tutto fatto apposta ovviamente poi le altre cose che hai detto tu io queste cose non le ho sentite perché non le seguo se ci sono dei video o cose così da vedere mandateli su discord capito decente perlomeno io sono curioso di vedere come si evolverà però non ho altro da dire sinceramente per adesso magari farò un video se dovesse evolversi la situazione commentate dicendo quello che ne pensate ma ricordate che se piangete venite bannati aspetta un attimo quindi perché siamo passati in questo video da si fa scopare su threads per fama e senza dignità e siamo abbiamo parlato per mezzo cioè mezzo video è stato su Chiara Ferragni aspetta non ho capito qualcuno ha capito il senso di questo video no io no va bene aspetta un attimo grazie a tutti